Ciao. Come stai? Bene. Sei contenta che oggi ti porto io a scuola? Sì. Non mi interessa la legge degli uomini. Preferisco quella degli animali. Quella dove sopravvive il più forte. Basta così. Ti dispiace. Grazie di averlo portato qua. Grazie di qua. Ma come... Io, se fosse mia moglie, non so se ti farei condividere tutta questa attività fisica. Eh, che fai, Uber? Non mi fai il maschio retrograda all'antica pure tu. Va, modernizzati, modernizzati. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.